Ciao ragazzi, oggi volevo farvi vedere le mie altre bustine di tè, questa è una richiesta e che sono felice insomma di girare perché mi piacciono tutte le mie bustine di tè e quindi sarà un mezzo show and tell così perché da quando ho fatto il roleplay ne ho prese un po', ne avevo preso una ventina dopo, forse un po' di più e quindi niente, voglio solo farvele vedere scusatemi le unghie che sono orribili, ho anche la mano sporca proprio che ho provato al centro una candela Lasciate stare tutto, ok L'ho girato solo per farvelo vedere, però come vedete è a rischio caduta Quindi adesso lo rigiro perché, ok Può essere un po' un compromesso Allora, come vedete sembrano un po' di meno le bustine Invece, nel roleplay, alcune bustine erano, anzi tutte le bustine erano doppie Quindi era proprio pieno pieno E adesso invece ogni bustina ha solo una copia E come vedete sono un po' parecchie quindi cominciamo subito Allora, cominciamo da Vabbè cominciamo, queste sono quelle vecchie Poi cominciamo da qui Questo è un tè per bambini Alla fragole lampone E' un'idea molto carina E poi carino l'orsacchiotto qui Molto dolce E' un'idea molto graziosa E' un'idea molto graziosa Questo è sempre del tè pergamotto Solo che è della bombatura E c'è tè nero al bergamotto Con olio di bergamotto Premium erbe di montagna Ingredienti Non so se vedete No, non mette fuoco Allora Qua c'è scritto Rooibos Che non so cosa voglia dire Però Foglie di mora Verbena Menta Camomilla Finocchio Liquirizze Cannella Poi qua ho Quattro Bustine della pompatura Una corrisponde alla serenità Vitalità Benessere E linea Linea A dentro Matte Ortiga Menta Spicata Menta Peperita Melissa Foglie di mora Petoli di Fiordaliso Ti sono snellenta Snellenta nel senso che Magari dopo una giornata Di corsa In cui ho mangiato una sola carota Questo può aiutare Un per cento Insomma è sempre da prendere con le pizza E un benessere Non so cosa sia Honey bash È scritto Honey bush Verde Tè verde Menta crespa Lemon mirt Lemon grass Melissa Radice di liquirizia Estratto di aloe vera Alga spirulina Folle di 5 Vitalità Mix Mix alle erbe aromatiche Con honey bash Bertisana Che sempre non so cosa sia Erbe aromatiche Menta, peperita e verbena Honey bash Cannella Radice di liquirizia Lemon grass Seppiore di calentura Seppiore di calentula Infine Serenità Sembra Ruibos Ragazzi se lo pronuncio male Perdonatemi Mi riterete dietro Melissa Honey Bush Ancora Ma che cavolo Anice Cannella Radice di liquirizia Lupolo Foglia di mora dolce Carta Momo E fiere di lodo Tisana Distensiva Carta spero che i suoni si sentano perché ho messo il microfono in una posizione un po' strana vabbè poi questo è un infuso fruttato ai cocco e ananas e devo dire che mi ispirava tantissimo poi l'ho assaggiato e non sa di niente perché comunque biologico non lo so per quanto io sia favorevole al biologico tutto quanto per me questo non sa di nulla e l'ho preso a Parigi ok questo malva e limone di sale di montagna d'agricoltura biologica carpe secca da freddo da coltivazione italiana confezionato utilizzando energia solare con fila di cotone biologico scusate i tagli ma devo tossire infuso di fiori di tiglio ricco di proprietà di stensi e rilassanti fiori di serenità e sempre della maraviglia ho anche di sana purezza infuso di menta menta ortica e liquirizia io dico liquirizia comunque sbaglio a quanto pare lo so ok questo è un bel suono mi piace andiamo avanti se non finisco più ok questo è un tag che ho trovato nell'appartamento a parigi infatti non so neanche provarlo perché e ha i frutti rossi normalissimo non dice niente poi twinix e camomilla mille vaniglia secondo me questo è veramente buono non l'ho ancora assaggiato però deve essere molto adattissimo alla sera bollente poi c'è tè verde arancia sempre della tua x poi ho queste due bustine che mi ha dato un mio amico che vengono dallo Sri Lanka cioè le ho ordinate su internet molto molto belle e c'è un tè molto raffinato comunque e molto di buona qualità frutta e spezie raffinato sei lonti è un tipo di tè mi piace un sacco la bustina anche il suono e invece qui è Targilenti che paese ho detto comunque vengo dallo Sri Lanka non so se l'ho detto giusto mi ricordo poi ho queste tre bodyline harmony e relax di cui non ci sono scritti gli ingredienti quindi questi sono i tipici che mettono e nelle spa ad esempio questi vi piace vatti vedere questo è nuovo ne ho preso i miei in montagna dei verde vogliono un mondo biologico e questo e questo sono nuovi questo è sempre di arginti come quello di nero e questo invece è un infuso ai frutti infuso la frutta con prezzi di frutta grossi credo sia una di quelle bustine in cui tu puoi mangiare la frutta dentro se vuoi ok arriviamo ai miei preferiti ah caspita aspetta che vengono da questa scatola che mi è costato un occhio della testa l'ho presa a Parigi e praticamente era un euro bustino quasi però non ha esistito perché erano dodici tipite e non ce l'ho fatta e l'ultimo ce l'ho detto vabbè chi se ne frega li prendo in Italia non li troverò mai ok e hanno fanno un rumore bellissimo allora questo è il piccol allora erbe liquirizia e mento biperito questo è è il il prince Vladimir di neri a crumi vaniglie e spezie fate perciò citrulls fruit vaniglie e spice di neri a crumi vaniglie e spezie bellissimo il colore poi questo è il cashmere di jai dirà così e tenere le spezie adoro questo cash molto elegante questo è il detox adetti verde citronella Poi Label Imperial Tè verde, arancia e cannella Sì qui c'è solo tè verde, arancia Invece qui tè verde, arancia e cannella Io ho sia il tè nero, arancia e cannella Sì il tè verde con arancia Però non ho tutto mischiato Questo è quello tutto mischiato Ok Sono bellissimi i colori qui Mi fanno impazzire Qui c'è Il targile Il targile numero 37 Pio che era anche lo stesso di questo qui E di un altro Sì Il tè nero della regione dell'Himalaya Ci sta Bellissime queste postine Le adoro L'avevo già preso no Anastasia E Tè nero di bergamotto Limone E fili d'arancia BB Detox Tè verde A tè e bombelmo Questo sembra l'ho mai sentito Come gusto Bombelmo Questa posta è la mia preferita Mi piace troppo questo colore Salmone Non lo so Allora Tedumatin Nero 24 Tenere di Cila Di Cylon Ed India Questo è Tè verde Di Cina Ma al momento No no In realtà i colori sono un po' più accesi rispetto a quello che vedete Ultimi suoi Tè verde a gesso vino Tè verde di Cina Infine Sian Pietroburgo Tenere di bergamotto Frutti rossi Caramello E questo deve essere Veramente Buono Veramente Veramente Buono Molto elegante Con i fiorellini Infine Ho comprato questo E che non vi mostro Non vi mostro E non vi mostro Signora Perché volevo fare Un video di unboxing E dentro C'è arancia rossa Cilicia e fragola Vaniglia e lampone Tentazione al mirtillo Marlampone Poi volevo chiedere Se avete visto da qualche parte E la collezione Se sapete un supermercato In cui l'avete visto Lo sto cercando Bene Io direi che finisco qui Spero vi sia piaciuto E se volete E se volete ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Grazie a tutti